Ah! Fontana! Bella! Ah mannaggia come... Che ce lo famo? Non l'ammazzo io adesso eh Pusha pusha! Che se non regolla è morta, se non regolla è morta BAM! Come che c'è ancora? Vabbè sa che il top c'ha Un problema Vai torre torre, passa, passa Sai che possiamo via c'è l'altra tocchetta? Forse Via 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 Forza mi start Quella com'è a dar Ma questi non zanno giocare Ah ok Vabbè me l'ho avuto da vantaggio Capito che l'ho accettato E' un amore E' talmente forte che me l'ho avuto da vantaggio Ragazzi No no sono proprio scherzi Ma scherzi da Vabbè Quelli sotto magari è scherzi Che ne sai che quelli sotto è scherzo Stanno giocando tutti la stessa maniera Ecco sono morto Ah Io pure sono scherzo Sono uno scherzone del cazzo Ho vogliato il cammino Che palle Cerca noi Vuoi uccidermi Povero male Questa non la perde Brava Eh no tranquillo Però Bis fortune E' che non voglio uccidermi Dove sto? Vai 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 bene Va bene così Bocchiamo C'è Evelynn mid Sbuccare Ok Ok Pronta? Pronta? Oh Oddio Evelynn è stupida La nostra Loro io so quasi morta Oh Come te permetti Ma come te permetti Ma no Scusatemi Niente Vuole gancarmi Med Oh Mi sono Pronta Qua 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 Aspetta si E sta farmando il posto di Lux Va bene Non penso si andrà a fare il drago Che tanto non è in grado Vista 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 Non devi scappare E' rilassante giocare con Giuseppe Ti ho paura De Giuseppe Adio Che sta venendo Allora Allora Martia vuoi che te la lascio io faccio un tower dive da dietro Ecco la Aluminio Te la lascio Porca miseria Un carretto Se vuoi te la ammazzo No Non è un po' Non c'è Posso creare Sopravvissuto Ricolla C'è ci sta parlando No Ragazzi Questo corpo Un po' di Sto proprio in fin di vita Ma non avevo mai curato Ma proprio la grande Un'unculata Eh Allora Se mi piace questa Dovere così Si Sei traumatizzata Però vedrai Ci ho le 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 infatti c'è sto così ma funziona se funziona segui a me che te le faccio voglio le kill tranquillo e chi 56 mini non legge una 18 capito capito come si gioca sul post è l'inna cui attenzione allora vabbè che si scherzi proprio quindi però allora ditemi quando manca la botte perché evelyn il drago da solo non se lo può fare adesso però è salita allora mi prendo il rosso per non lasciarlo quindi sono stato giustiziato danny si appena si possa posto un miglior mito pensa e minio tranquilla e se pensi minima level 6 cosa evelyn è l'avversario ancora non lo vediamo attualmente io l'ho fatto quindi potenzialmente potrebbe averlo un nemico è stato ucciso eccolo il nemico saliamo il drago e mi sta venendo da me e mi sta venendo da me e fai la q di edro ma sta lux è senza mani pureta senza mani o senza mani no l'aveva già tirata l'aveva tirata un secondo prima che arrivassi con l'ultima in te si ho capito ma era passato tanto tempo poi io si era passati 7 8 secondi non aveva mani e comunque non era pronta l'ultima mazza l'ulù ancora 4 di io me mangio miss fortune eh sì ho mattato a cosa a dario se sono per curo adesso non è venita nella mamma no mannaggia tutta serie eh lo so ma mi pare che ha sprecato eh eh una kill non è male eh no dai no no fai arrivo 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 vai sulla torre famose la torre che è tanti soldi adesso perchè è la prima first tower niente via becca 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 oh tranquillo ma che tranquillo con giuseppe mi dici tranquillo quindi vabbè vabbè no perchè scappa torre dove c'è la eee la torre non c'era più minion ma sta sempre qua questa ganga che coglioni è venuta sotto però per emilia purtroppo è più facile aspetta che penso io ingaggio io vai e no che sfiga nera ma io non c'è credo che non è abbastata vacca miseria pensavo da che c'è lo smile tu no quando vi andate voi andate attacco base attacco base attacco base ultimo e magari lo sto mi sono coperta con la sua belle cosa mi pare vuoi cazzo pensavo che faccio c'è evelyn che sale da sotto si perchè muova l'ammazzamme no sale mid sale mid sale mid vengo io da daris un reggine attimo vengo bellissimo cosa si è fiatto con una torre stata bella lì bella lì bella lì bella lì arrivo ecco bravo mamma mia allo sfondo dell'uno sennò era morta la strontetta vieni vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua questa mille ha fatto grande il bambino eh mamma mia che figata qui le stai fuori da sopra c'è sta misfortune che non ha acchiappato una Q allora oggi che palle sta lux però eh la donna è tanto per comare lo spedto un po' c'è misfortune e le cespuglio eh sopra quello mid ok questo ok no no era abbastanza simile forse è tornato in base se avete la ward mettetecela però ce la metto ma non era andata in base secondo me è già lo stesso non si sa mai si si infatti adesso gliel'ho messa ma non c'ho più mana mamma vado in base ah c'è il drago tra poco ormai è scendito mamma mia si ho guardato sempre che devo finir sto cacchio di smite maledizione in atti atti ecco la evelyn è stato lì tu 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 guarda quando è impostante eeeve mmmm tanto me fa male da di sporco vieni 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 come faccio il rosso me faccio il rosso poi e niente io no io no o porca merda Non ci credo che mi ammazza Miss Fortune questa Cazzo Stanno scendendo C'hanno usato una palla Merda 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 Sanno in tre Ah no Ho l'arrivo Ho c'ho il drago Dateci andateci ragazzi C'hanno il drago addosso Secondo me non è il momento Sì sì no invece è il momento Tu Evelyn Oro Oro Prego le urni Eh Oro Oro oh mi serve da andare bene oh mi serve da andare bene oh 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 non ti muovere amore la la dove vabbè via via io non c'ho bisogno di regolare però sei 3 contro 1 dovreste regolare è vero non c'è andato a credi come ha fatto a sopravvive c'è da sopra facilmente moribile se volete facilmente moribile mamma mia quanto stava voraccio non 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 corri evelyn se avevo il flash ci flasciavo tanto so che sta su quel cespuglio non 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 vediamo se ci siamo a facciare sta lux è venendo sta non lo so ti so no quanto è andata lontano eh vabbè mi sono fatto in finocchia sette 800 volte non so perché mi ha preso con l'ultima anche se l'avevo toggiata prove su 867 anni accorta aiuto qualcosa per colmare questo eh fai minion eh sì ma queste sottotorre prima ah ah cattocatto 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 manca buttana ma ma scrippellato ha scrippellato Abbiamo questa torre Eeeh! Ho messo mal la porta Guarda, non d'accordo ci sia nel cosa Darius Torre Sta scendendo Lux Quindi dobbiamo sfrigarci Arrivo Mid Mi sa che mi spacca anche la seconda torre Spengo la luce Daleee Mamma mia Ah ecco, io che non moriva Vengo top Però stacce Marco e mi servirà assist Da solo io posso ammaliattelo Mi servirà danno, mi servirà tutto Uh Oh Andre aspetta Eh, io infatti non ci sto andando Posso restarci? Tranquilla tranquilla Ah, venivo a curarti io Ti auguro Madonna c'ho 24 le magiae E io quella con l'incantesimo non c'ho La cura Feria Grande amore No amore Eh amo Posso dire amore anch'io anche se non c'è nessuno Certo che puoi Uh, Lux Spera c'è Lux Uh, mamma mia Via Una quattro, eh, attenti Lux ma che c'è Ma che c'è mai dimmelo Oh C'ha un flash fuori, si Eh, vabbè Lo dovevo tirare un secondo mille Ma che c'è troia quanto fa male sta con questo dunque Vieni palco No, no, ma prima Lugimi, mi ha fatto un sacco male Stavamo da piccola Vabbè Ragazzi, io penso che Non c'è più nessuno che non squaglio Che non one shot ormai Compreso Alyos Andrè, scendi Andrè Si Sì, ma la volta che muori mi sembra Eh, ne perdo dieci Sto comunque a quindici che è tantissimo Startalo, sei re Vado Ma ti ho citato l'aliando? Che si città l'aliando? Che c'è l'aliando? Non vedo il Darius Non vedo il Darius, ragà Non è meglio il rosa E' in mid Darius L'ho fiddato un bel po' ragà Ah, io dovrei andare a comprare Guardala Ferma salene Ho cambiato idea, ho cambiato idea Non ci voglio andare più Vieni, vieni Uh, Lux Darius E' in mid Oh va Fa tutti i gol Darius Scusate, non l'ho usata mai Volevo Scusate Varo Larius pensava essere forte perché combattia contro me Ma ha matato Nooo Ulti e ulti che roba Oh re Eh lo so Sto cercando ad andarmi le mano Anche se potremmo pure pusha' però vabbè dai Andiamo a comprare Sono tutti morti Madonna si è brutto pure sto Darius Come faccio sta, mi sforzo una botta di ulti, guarda eh La tua squadra ha distrutto una torre Tanna adesso pusha Arriva al libro Io arrivo di due Raffaele Ragazzi c'ho bisogno che rallentiamo Devo arrivare almeno almeno a 35 uccisioni Per averci qualche visualizzazione su youtube Ah si? Eh guarda c'è una mi sforzo in mid E' 17 Oia Questa è la realtà Prima Vabbè io lo armo Non c'ho penetrazione magica Rischio un po' Aspetta Guarda Guarda che recupero un sacco C'ho 13 secondi Forse della faccia Un vittice 8 secondi Ma mica Oh ma io d'avevo sciarmato E' sciolto cazzo Si infatti non pensavo che fargli è così male Vabbè che comunque sto a livello 14 e c'ho 550 Potere magico Perchè mi ha torrettato la tarda? Perchè mi ha torrettato la tarda? Oh Ah no sei la nostra Aspetta ho delle figure tra poco Siamo andati pianissimo Sì Adesso facciamo tutto il resto Vieni qui Darius Vieni vieni pochino vieni I miei i miei Chi li ha correte dietro Sì sì ma è bene Voglio andarmene Ma il bello è che ci ha aggrappato ma ancora non avevamo ittatto Alvevamo ittatto potrebbe essere pure forte la cosa non devo busciare la passiva c'è la doppia attiva perché faccio paura è normale che muori sai non ci vengono ho detto tanto sono morto mamma mia allora prima lux e poi è venire arrivo questi due non interessano questo sì no darius quanto si è preso 10.000 ma penso che mazza ma con l'ultima gli hai tolto tanto quando sta sotto a 20 per cento di vita è critico in automazzo per non so quanti fracco dei danni ma ti dice che c'ho il dark harvest critico anche sulle abilità dall'accude pantheon sì quindi comunque di base le abilità non possono critare te sto facendo domande dipende dell'abilità ce l'ha scritto se può no però l'accude pantheon quando l'avversario sta sotto il 20 per cento di vita il bersaglio è automativamente critico ah beh aspetta ha cucito sola magari no ma oggi c'è anche di 59 anni gli attivo il dark harvest e cazzo in mano oh 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 sanz come ti ho trollato oh h 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 un misfortune morta un cadavere di misfortu ahia un altro cadavere di misfortune say look c'è grande io sto io sto facendo le kill giuseppe me le sta rubando io sto solo qui a fare non è vero questa squadra erano scherzi ragazzi ma scherzi dai che cazzo non morire non morire non morire credo in voi ca miseria per un pelo non l'ho chiusa ma si è bloccato il personaggio dai tanto avrebbe ammazzato tutti i mini io volevo ammazzare Darius non si è bloccato non si è bloccato non si è bloccato ah raga mi è proprio arrivato un report un instant feedback report wow ho preso un S meno grande finalmente perché sia sei con Pantheon ah no S ho preso un S meno il cazzo ragazzi vi saluto buonanotte ciao